Ciao a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti su Top Sport News. Oggi vi parleremo di uno dei talenti emergenti della Juventus, Timothy Weah, e di come il suo ruolo e il suo impiego stiano subendo alcune modifiche sotto la guida di Max Allegri. Rimanete fino alla fine del video per scoprire tutto quello che sta accadendo attorno a Weah. Ma prima di entrare nei dettagli, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale e di premere il pulsante Mi Piace per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sportive. All'inizio della stagione, sembrava che Timothy Weah sarebbe stato il titolare inamovibile sulla fascia destra della Juventus, ma qualcosa è cambiato. Max Allegri, l'allenatore della Juventus, ha inizialmente schierato Weah al centro della manovra, durante le amichevoli precampionato, ma poi ha cambiato idea, facendolo recedere nella sua posizione abituale sull'ala. Le prestazioni altalenanti di Weah, compresa una sostituzione all'intervallo contro l'Udinese e una performance deludente contro il Bologna, hanno portato alla sua esclusione dalla formazione titolare in alcune partite successive contro Empoli, Lazio, Sassuolo e Lecce. Quindi, cosa sta succedendo a Timothy Weah? Pare che la chiave sia la pazienza. Weah ha solo 23 anni e ha sempre giocato come ala o terzino, mai come centrocampista. L'intenzione di Allegri era quella di plasmarlo per il centrocampo a 5, ma questo richiede tempo e adattamento, soprattutto in un campionato come la Serie A, noto per la sua tatticità. Come ha sottolineato Allegri, il campionato italiano è molto tattico e richiede una grande preparazione mentale. Quindi, caro Timothy, sembra che il tuo allenatore stia cercando di farti fare uno step in più per abituarti a questo calcio più cerebrale e meno atletico. Quindi, per i tifosi della Juventus, l'appello è alla pazienza. Weah è un talento in erba e con il tempo potrebbe dimostrare il suo valore. La domanda che però sorge spontanea è, perché solo qui in Italia i giovani faticano ad essere lanciati nel grande calcio? Non sarà forse la mentalità del campionato italiano che deve fare un upgrade ad un livello più alto? Speriamo solo che Weah non diventi un altro talento che, per emergere, deve cambiare campionato. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Continuate a seguirci su Top Sport News per tutti gli aggiornamenti su questa situazione in evoluzione. Grazie per aver seguito e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e per rimanere aggiornati sulle notizie sportive più interessanti. Alla prossima!